Grazie a tutti. 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 ... 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 momento tambi, una nanta quere soluzione per il nostro paese, per crescere la agricoltura e il nostro crio di bestia, molto più. E la presentazione mi ha detto, se è una buona, se è una buona fece per il 2, cumbre, come vi ho detto, ora, noi abbiamo una buona informazione con il nostro 13, inclui di nostra nota di manejo, però per me è, se è buona, ma pidi, non, cada uno, il gruppo, non, duno, 3, 5, 5, 3, 5, pacienti, ando, vai, mas, a fondo, di un punto, non, non, appone, per sobra, invece di, la cosa che dice, te saque, te manejo, e inclui, e parte, di, non, da, di modo, che, non, reparti, entre, otro, tambi, responsabilità, per esempio, non, non, di una responsabilità, di, gobierno, non, non,九, di regla, non, per esempio, di importazione, di bestia, con forma, 礼, che, perché, seama, questa regla, che, applica, in pratica, ora, qui, c'è Raven, il problema non con lei, lei non ho più bia, che noi abbiamo bisogno di revisare, per se è il lavoro di un criatore di bestia più facile. Noi necessitiamo importare le bestie, perché non si può importare, non si può facilitar, non si può importare le persone, non si può importare le bestie, ovviamente non si può importare le bestie, è necessario, per esempio, avere controllo necessario, non si è un laboratorio per avere il prodotto in relazione con la bestie, che se faccio ora non ho scoputo come noi, non ho scoputo come chi ce fa? Se c'è un criatore di bestia a guardare una cosa strana non è un post che è stato un doctor di bestia, un lavoratore che fa con un criatore di bestia a guardare una amanda, una gente sale con la sua scoperta si trova un borbo che le bestie sono messi a qui e invece qui, da tali e tali cose, ti vogliono tenere tali e tali rimedi. La nostra vita è che un ser umano è malo, poi vai al doctore, e il doctore può sapere chi è qui. Camera di commercio è chiesto di non mettere subito i soldi minimi, per il motivo che lo aumenta il costo di vita. Belli, anche il presidente di Camera di commercio, indica che in altra forma aiuta le persone che non hanno bisogno di vivere in linea di progresso. La nostra vita è una discussione che si tratta di un dialogo nazionale. Quando il dialogo nazionale si tratta di un pari organizzazioni di governo, come se, mei, che sono un istituto, per noi, le persone che si attengono, che hanno bisogno di vivere in un pobretto. Qual è il studio di vivere? Il studio mostra che la unica persona che ha bisogno di vivere in un pobretto, 800 famiglie, meno o meno, che si tratta di vivere in un pobretto, con un paese che si tratta di vivere in un pobretto. Ma sono solo, ma sono solo, o le persone sono solitaro sono solitarie. E uno, le persone che non si tratta di vivere in un pobretto, è molto poco in un pobretto. E se non è ANDRI, come si tratta di vivere in un pobretto, non è behstando di vivere a un pobretto a un pobretto. ma non sono solitiare il problema qui non stanno, qui è proprio ma subito meno non per il rende ora subito meno non per il rende, ma che è bonito non sappiamo che per il rende è una macchina uno, potete subire prez poi sono per me cobrir come negoziante, potete subire prez e se sta afeccando questo non c'è un'altra intervolo, se sta afeccando non c'è un'altra un'entrata mazzabolo è una pobole nella nostra comunità due, questa cosa se metti un'compagnia a Chiquico è un'altra cosa afeccando la subito di Milano non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa se metti un'compagnia a Chiquico non c'è un'altra cosa se metti un'compagnia a Chiquico non c'è un'altra cosa è un studio di meio la mostra la subita planata nella nostra l'armonia costa più o meno 4 c'è un'altra e poi non c'è un'altra cosa per il motivo di subito una cosa è di come noi ci facciamo questo? numero uno potete subire il gasto la persona non può fare forte non c'è un'altra cosa una cosa è un'altra cosa ma potete affetta la economia non c'è un'altra cosa meno movici l'accommodo come nella nostra opinion la nostra cosa è di come noi ci facciamo e persone e anche se non e famigli La Cámara di Commercio presenta un plan di dialogo nazionale. È un costo nuovo, un costo in America. C'è un costo minimo, ma è un costo minimo. C'è un costo minimo, ma è un costo minimo. Il governo è aiutato per arrivare a un costo minimo. E come si accubrava? Si accubrava con un belastino. E se noi facciamo questo, la subita del prezzo è circa 100%. Se noi facciamo il plan di l'armonia, noi stiamo aspettando di subita quasi 2% nei prossimi tre anni. Come in senso abbiamo, non c'è un problema che va solucionare. E non c'è un problema che va solucionare. E non c'è un problema che va solucionare. Per esempio, abbiamo un 55% che si accubrava. Belli e Oncerta lamentano che i sindicalisti non buscono un soluzione del problema del caso, se non è preferito andare in action. E ci sono le conseguenze che l'economia si accuenta in ultimo giorno del anno. e in questo punto non è possibile. Poi sembra che il nostro plan è di subito, ma che si accuenta in cui c'è un plan di direccio. Però per la visione che le prezze va ad andare, se non si accuenta più, però non fa sapere più. È non c'è un problema che fa insidere. E non c'è un problema che fa insidere. Se c'è un cartotto in cui c'è un paese del padre, è molto positivo per la maggior parte del nostro paese. E mi chiede che non ci sarebbe, mi chiede che non ci sarebbe una buona valga, mi chiede che il dialogo è molto male, e non c'è nessun dialogo nazionale. E mi chiede che è importantissimo in qualche comunità, un buon dialogo tra i tuoi e i tuoi partiti e i tuoi comunitari. C'è un po' di commercio che ricevevi un commentario di alcuni negocianti, che arriva in valga, e che aumenta il sueldo? C'è un po' di effetti negativi. Stiamo parlando di l'unico più importante per il commercio, ad esempio, riparare con la situazione. Non si sa, 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 non si sa. E' un po' di effetti negativi. E' un po' di effetti. Algo non è un po' forte nei paesi che vengono qui. E' un commentario in una botagna, e non solo se è il tipo di situazione, c'è un problema che ci riguarda ciò deve fare presenza, per accedere un paese democratico und your welga dover. Innanzitutto, all'inter aquilo pubblico che si si sa che questo c'è un problema di passaggio che si 42 confidenza del segno. Ness는데 abbiamo scoperto e il semplice di Queen, la sede anche i membershipionali, ma già trovate non il diritto di fare lo che non è così, ma è in suo effetto. Partito Uman ha presentato un'amienda di lei di Coffey House per evitare la discriminazione. Di accordo con il parlamentario di Partito Uman, Giselle Macquilliam, la lei è stata da causa di irritazione. Pensei a venire con un'aproposizione per, junto con il abogato Murey, tra il cambio di lei qui. C'è un'aproposizione per evitare un'aproposizione per evitare la discriminazione. che sono stati passati in un'aproposizione per il nostro lavoro. Quindi, non è così, non è stato un giorno di cui ci sta a celebrare con la Unione della Decreta del Direccio di Sere Humano. Per esempio, come si parla per la igualità, ogni giorno si parla di un'aproposizione, come si parla di pagatino, come si parla, come si parla, come si parla pubblicare, quindi, come si parla, anche il art. 53, che ha dato un'aproposizione per i loro, 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 per i loro. Questo è sempre per irritarmi, perché mi ha detto che ci sono qui e non ci sono più tempo. Mi ha detto grazie al abogato, il signor Mieto Muri, per aiutare la traiettoria di una persona che sta parando per l'igualdad e le nostre amende, ci sono le nostre torno di legge con il nostro paese, non ci sono di discriminazione. In questo caso, ci sono un cambiamento più piccolo, le nostre torno di gestione di 18 anni, ci sono stati di buccia di 18 anni, ma anche le nostre formazioni di 18 anni. Ci sono stati in modo di cambiare. Ci sono stati piccoli, perché ci sono stati fondamentali, ora facendo attenzione l'articolo 3 della base per la antidiscriminazione, e mi chiede che non ci siano lezioni per il nostro Stato che si tratta di discriminazione tra i persone e i paesi. De acuerdo con il parlamentario, MacWilliam, il mestiere di più persone con il studio di trattamento di lei per aiutare il Parlamento ad adattare lezioni e aiutare il Parlamento tra lezioni di nuovo. De acuerdo con il parlamentario MacWilliam, il Partito Man ha intenzione di attenderle lezioni come mestiere di adaptazione e lezioni di nuovo. Abbiamo attenzione di partecipazione di persone per il ciò che ci faccio, la nostra stranata di benefici. Abbiamo attenzione di dell'articazione, perché non ci sono una stranata di scuola, di fare una chiamata che ci tratta della scuola di nuovo, perché il seguito si tratta di un Parlamento. Non ci sono tutti i nostri spieghi, ma ci sono delle delle cose che ci hanno fatto al di un governo. . . . . quindi la connessione che sta iniziando a fare un'economia in maniera più facile, il modo di farvi che non ho aspettato, come attacchi ma che non faccia un'azienda di qualcosa di per le NE. Il modo di farvi più tempo e, senza farvi al progetto del riuscito, che ci sono stati attraverso la Commissione come partito di chi non ha aspettato, che si può essere acc Televisioni anche altri parlamentari e amici di cui non ho aspettato? Sì, io ho capito di fare una fraccione, ho fatto un po' di fraccione, io spero che ogni giorno una fraccione possa fare una nota di appassione, che la nostra fraccione è un stimolo per andare a fare le cose. Quindi, io ho capito che la nostra fraccione non è sopra a fare le cose, perché io ho capito che la realtà è che nel Parlamento non c'è sufficiente conoscimento, ma non veramente questo, ma non è cambiare. E non non di essere, ma non di essere un problema. Non di essere un problema con gli papi, ma non di essere un problema. O Fiona è una situazione complicata, ma sono un problema. Non di essere un problema, non è un problema. La situazione è in questo caso, che sono stati da un'estudio speciale. Quindi non c'è tanta cosa, ci sono un bisogno di rinno, che mi набore veramente difficile e troppo bene. Non substanti, perché non è poco come si riconosce, è tutto quello che non abbiamo fare, io ne lo faccio guards. Ci sono cambiare o formare gente buoni svagodori, quindi io mi aiuto equipo, come sono io ringrazio e mi aiuta dietro a fare oggi. Mi può essere cambiare anche Himmattia qui nasce parlando. Il Ministero di Desarrollo Sociale, Lavoro e Bielescar, Hensley Go�man, sta di servizio con il vostro omogiorio.